Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Bene, il messaggio di questa mattina dice non ci scoraggiamo di fare il bene, non ci fermiamo direi. Abbiamo già il malvagio con i malvaggi che di male ne fanno da tutte le parti. Noi come ci possiamo distinguere? Cercando dovunque siamo di fare il bene, non solo ad una categoria, adesso ho fatto questo, poi il resto agiamo male e diventiamo malvaggi, strumenti nelle mani del malvagio. Dovunque ci troviamo, cerchiamo sempre di mettere il meglio che possiamo per fare il bene. Leggiamo insieme in Galati 6.9 Signore, tu sei grande. Galati 6.9 dice così Non ci scoraggiamo di fare il bene. Perché? Se non ci scoraggiamo Mieteremo a suo tempo. Cosa mieteremo? Il bene. Il bene. Leggiamo un'altra volta perché se no Non ci scoraggiamo di fare il bene perché se non ci stanchiamo Mieteremo a suo tempo. Che cosa? Il bene. Molti pensano Ho fatto tanto bene Lo ripeto E ricevo solo male Dagli uomini Ma da Dio no Noi parliamo di Dio Leggiamo dal verso 7 Fino al verso 9 Così inquadriamo cosa stiamo dicendo Non vi ingannate Non ci si può beffare di Dio Perché quello che l'uomo avrà seminato Quello mieterà Questa è la legge divina Questa è la legge che ha funzionato fin dalla Genesi Perché chi semina per la sua carne Mieterà corruzione dalla carne Ma chi semina per lo Spirito Mieterà dallo Spirito vita eterna Non ci scoraggiamo di fare il bene Perché se non ci stanchiamo Mieteremo a suo tempo Con questo esempio Dio ci fa comprendere Attraverso la natura La natura voglio dire La natura di quello che seminiamo raccogliamo Se seminiamo orzo nasce orzo Mettiamo orzo Se seminiamo grano mettiamo grano Se seminiamo spine crescono spine Signore aiutaci Che al momento giusto Vedremo il racconto Di che cosa Se seminiamo bene Eh ma io ho fatto tanto bene Mi hanno fatto male Non ti preoccupare Gli uomini fanno così Perciò il Signore dice Che lui è diverso Se qualcuno manca di sapienza Di saggezza la chiede a Dio Perché Dio dona Senza rinfacciare Gli uomini te la fanno sempre pesare Dio te ne dà quanto ne vuoi Senza mai dire Te l'ho data già Ecco noi dobbiamo distinguere Perché lo facciamo Lo facciamo come per il Signore Quando facciamo le cose come per il Signore Stiamo a posto Stiamo a posto Ma quello non ci ricompensa l'uomo Ma noi non aspettiamo che ci ricompensi l'uomo Noi seminiamo perché Dio ce lo dice Noi lo facciamo ed è Lui che ci pensa La natura ci insegna Guardiamo Giacomo come ci aiuta a comprendere questo concetto Leggiamo insieme Giacomo 5,7 Il soffermarci Siate dunque pazienti Fratelli Fino alla venuta del Signore Fino a quando? Oh ma io ho già fatto No No, no Fino a che andiamo col Signore Ora osserviamo con calma Come l'agricoltore Aspetta il frutto prezioso della terra Pazientando Finché esso abbia ricevuto la pioggia Della prima e dell'ultima stagione E poi C'è il raccolto Lui cura sempre Potà Pulisce Toglie l'erba Toglie la foglia Nella vigna ci si sta sempre dentro Ora la foglia copre la pigna d'uva E non ci batte il sole Toglie la foglia Oggi lo steno sta crescendo Il traccio sta crescendo Si piega Mette la frasca Lo lega Lo mantiene pulito Lo mantiene ordinato L'allinea Lui non si ferma mai Così noi Signore aiutaci Osservate come l'agricoltore Non si ferma di coltivare Di curare Senza perdersi d'animo Ma che bella la parola di Dio Non ci scoraggiamo di fare il bene Lui fa così Non si scoraggia di sistemare La vigna Perché se non ci stanchiamo Mieteremo a suo tempo Nel verso 8 Per non scoraggiarci Dice Fortifichiamo i nostri cuori Leggiamoli insieme Dobbiamo fortificarci Dobbiamo fortificarci Siate pazienti Anche voi Fortificate i vostri cuori Perché la venuta del Signore è vicina Ma che vuol dire Il Signore torna Il Signore è vicino Ma quanti ogni giorno Li vediamo partire Come sappiamo Che ogni secondo C'è una persona Che se ne va Ci sarà anche il nostro turno È vicina Ma fratello Dobbiamo morire Ma certo Chi l'ha detto Che dobbiamo restare È stabilito Che gli uomini muoiono Una volta sola Dopodiché Verrà il giudizio Il ritorno del Signore Può essere Da un momento all'altro E noi perché dobbiamo guastare La nostra atmosfera interiore Mi diceva un amico anziano Che era nonno Questi bambini mi fanno arrabbiare Qualche volta gli farei Quello che facevano i nostri genitori a noi I genitori a noi Ma non voglio lasciargli un cattivo ricordo E allora cerco di Con pazienza Sopportarli Sopportate pazientemente Rileggiamo questo verso Quanto sei bello Signore Tu ci porti Verso la giusta Siate pazienti anche voi Fortificate i vostri cuori Perché la venuta del Signore è vicina Se ci sono difficoltà Impegniamoci di più Per superarle Diventiamo più pratici Nel fare le cose Più ci esercitiamo Più riusciamo bene A fare il bene Non ci lasciamo neppure sfiorare per la mente Ma quella ha agito male Noi cerchiamo di fare la nostra parte C'è già il diavolo che ne fa tanto E i suoi emissari Quando ne compinano Non ci dobbiamo noi distinguere Come ci distinguiamo? Nel fare il contrario Noi camminiamo controcorrente Con il sistema del mondo Sempre Aiutaci Signore Per superarle Prendiamo come modello I profeti Uomini Santi di Dio Gli battevano le mani Quando parlavano Con saggezza Quella divina Erano portavoci di Dio Cosa gli facevano? Gli battevano le mani Leggiamo nel verso 10 Così ci aiuta A consolidare Il nostro cammino con Dio Prendete fratelli Come modello Di sopportazione E di pazienza I profeti Che hanno parlato Nel nome del Signore Oh, alleluia Gloria sia resa a Dio Avrebbero dovuto Mantenerli Su un altro Su un piedestallo Un portavoce di Dio Non è persona di seconda scelta Ti dà le direttive Che vengono da Dio Ti dice Dio Come pensa di te Ti dà parole profetiche Ti incoraggia Avrebbero dovuto Mantenerli così Ma non è così Che parlare Parlavano da parte di Dio Ma non erano ascoltati Geremia Un santo uomo di Dio Fin da giovane Lui parlava da parte del Signore E il Re E quelli che erano ad alto livello Dicevano Prendetelo Mettetelo nella cisterna E lasciatelo giù Questo Ci dà fastidio quando parlo Uomini santi di Dio Prendetelo Mettetelo nella cisterna Abbiamo l'esempio di Giobbe Ditemi chi non conosce Giobbe E' il campione della pazienza Signore aiutaci Questa mattina Perfino la moglie Era lì Per dire Ma ancora Ami questo Dio In questa condizione Ma rinnegalo e muori Come lo incoraggiava Oggi ce ne sono tante Di mogli di Giobbe Intorno ai credenti Non le mogli Ma Qualsiasi persona Può Diventare una moglie di Giobbe Ma noi Siamo chiamati A un'altra cosa Il nostro piacere E' di piacere a Dio Fare ogni cosa Come per il Signore Perché Chi ci deve Deve tener conto Di quello che facciamo E' il Signore Non saranno mai Le persone intorno a noi Quando fai qualcosa di bene Se non hai la forza Di ricevere male Non la fare Sennò dopo resti deluso Noi dobbiamo usare un metodo Che normalmente si usa nel piccolo Ti dico come Quando tu fai un'offerta A un mendicante Ti aspetti che ti ritorni qualcosa Io no Tu? Se quello non ti Ritorna ciò che gli hai dato Tu hai già messo a budget Che non te lo deve ritornare Perciò qualsiasi opera Non ti devi aspettare Che Ti sia riconoscente Perché se no Resti deluso Ti raccomando Se vuoi vivere una vita felice Se vuoi vivere una vita felice Col Signore Devi fare così Non ti devi aspettare Lo faccio Lo faccio Per il Signore E il Signore sa Stop Leggiamo il verso 11 Chi di noi non conosce il Gioco Ecco noi definiamo felici Quelli che hanno sofferto Pazientemente Avete udito parlare Della costanza di Giobbe? Io sì Pure tu E conoscete la sorte finale Che gli riservò il Signore Perché il Signore è pieno di compassione Il Signore È misericordioso Chi di noi non conosce la storia di Giobbe? Non ci scoraggiamo di fare il bene Perché Se non ci stanchiamo Mieteremo a suo tempo Io lo ripeto Perché Che possa lo Spirito Santo Farci decidere una volta per sempre Che noi Non siamo Figli del Diavolo Noi siamo figli di Dio E come tale dobbiamo esercitarci Lui fa piovere Sul terreno dell'incredulo Di chi lo bestemmia E di chi cammina con Lui Quando vai a vedere nei terreni Sono Quando piove Piove Su tutti Signore grazie Se noi non iniziamo A esercitarci così Facciamo sempre la distinzione Guardiamo un piccolo verso Di Giobbe Alla fine dei suoi giorni Il frutto che ha raccolto Leggiamo in Giobbe Capitolo 42 Verso 10 Quando Giobbe Ebbe pregato per i suoi amici Il Signore lo ristabilì Nella condizione di prima E gli rese il doppio di tutto Quello che già gli era appartenuto Mantenne una linea di comunione Con il Signore E la forza di intercedere Anche per i suoi nemici Che spesso lo accusavano Che aveva peccati nascosti Quando andiamo a Dio E' Lui che cambia le cose Se noi manteniamo uno stato Di continua comunione con Dio E parliamo con Lui Allora questa si chiama preghiera Dio risponde e basta Molti credenti non credono Che Dio risponde Dio risponde Ci sono tanti esempi Nella parola del Signore Di gente afflitta Che non ne poteva più Quando è andata al Signore Il Signore ha risposto Tu ricordi la madre di Samuele Che tragedia Non solo non aveva figli Uno Secondo per la cultura di quel tempo Chi non aveva figli Si diceva che non era buona Due Tre Chi non aveva figli Si diceva che aveva la maledizione di Dio Perché Dio era un segnato da Dio Tre Ad aggiungere la dose C'era Peninna Che la mortificava Con orgoglio La trattava male Che sofferenza Se tu leggi questa storia Il marito poverino Non sapeva come doveva fare Per raccoglierla Per dargli coraggio Ma io non ti valgo più di dieci figli Perché io ti voglio un fiume di bene Però il Signore risponde Leggiamo insieme in primo Samuele Capitolo 1 Verso 12 La sua preghiera davanti al Signore Si prolungava Ed Eli Osservava la bocca di lei Eli la vedeva Ma non l'ha compresa Eppure era Un pastore Un sacerdote Avrebbe dovuto avere compassione Di quella donna che Parlava così Non sono gli uomini Che ti devono comprendere Devi continuare A confidare nel Signore E devi imparare Ad esercitare Questo tipo di muo Di muoverti Signore aiutaci Questa mattina Dio sì però Dio l'ha compresa Il figlio arrivò Lei lo chiedeva a Dio Il sacerdote Pensava che era ubriaca Ma lei Dice Spandevo il mio cuore Davanti a Dio Scusa Che ti ci va Che tu durante il giorno Trovi del tempo Anziché restare con La rabbia in gola Di parlare con quello Con quell'altro Entra nella tua cameretta Di Signore Io presento a te Cominci a fare Diversamente Adesso abbiamo La facoltà Che non dobbiamo Andare per forza A Gerusalemme Per ricevere Le risposte O girarci Verso Gerusalemme Adesso Abbiamo il Signore Che è presente E ci ha detto Di entrare Nella cameretta E lui risponde Leggiamo nel verso 20 Che bello Quanto mi piace Nel corso dell'anno Anna Concepì E partorì un figlio Che chiamò Samuele Perché disse L'ho chiesto Al Signore Saccamasham L'ho chiesto Al Signore E il Signore Me l'ha dato Guarda Questi esempi Ci devono essere Di aiuto Noi Siamo credenti Siamo cristiani Dobbiamo Fare così Ma guarda Che si consolida La tua fede Cominci ad estranearti Alle sciocchezze Che ci circondano E ti consacri Al Signore Vedrai come Il Signore Risponde Abbiamo tanti esempi E Zecchia Per esempio Un re Che aveva 39 anni Zecchia Aveva 39 anni Arrivò Il profeta Isaia E gli disse Metti a posto Tutto Perché Devi morire Il Signore A 39 anni E giovane E uno Un re Che allora Incrementava La sua capacità Di portare avanti Il regno Che brutta notizia Ma lui Si muove Nella giusta direzione Guardiamolo insieme In Isaia In Isaia Capitolo 38 Verso 2 Oh quanti esempi ci sono Gloria sia resa di Allora E Zecchia Voltò la faccia Verso il muro E pregò il Signore Dicendo Si girò Si girò verso il muro Per non avere distrazioni Come quando dico io Chiudiamo gli occhi E preghiamo In modo che noi Con il nostro cuore Abbiamo la possibilità Di Non avere distrazioni Cerchiamo di Mantenere Il nostro cuore Verso il Signore Che desideriamo Che ci ascolti Per non avere distrazioni Delle cose Che lo potevano distrarre Intorno a sé C'erano forse persone Che lo vedevano piangere Dice Che cosa sta facendo Ma perché piangere Lui si girò Per chiudersi fra sé E di Un poco come Elia Che si mise Con la testa Fra le ginocchia Si mise seduto Dio non guarda La posizione Del corpo Dio guarda Il nostro intimo Quando ci rivolgiamo A Lui Vedi tutte queste Piccole espressioni Di come si prega Non è la forma Esterna È il nostro cuore Che dobbiamo Aprire davanti a Dio Dai Cominci a fare così Non ti disperdere Che svuoti la tua mente Guardando qua Guardando là Queste indicazioni Servono Perché noi dobbiamo Avere del tempo Così Se non stiamo sempre stressati Sempre preoccupati Sempre ansiosi Il Signore ti vuole cambiare Il Signore vuole portare Quella pace Che il tuo cuore ha bisogno E quando vai a Dio Così Cambiate Lui la prima cosa cambia a te Lui la prima cosa cambia a te E che ho fatto ciò che è bene I tuoi occhi Dammi la possibilità Di continuare Ad esercitare Il meglio Per onorare te E Zecchia scoppiò In un gran pianto Aveva 39 anni Chiedeva il prolungamento Della vita E un cuore Integro Per piacere al Signore Nel contesto di questo verso Non si vanta di essere stato buono Ma nell'originale dice Sta chiedendo a Dio Di prolungargli la vita Perché Lui Vuole servire meglio Il Signore Che bella preghiera Quando andiamo al Signore Non gli diciamo solo Il nostro bisogno Diciamogli Che vogliamo migliorare Lo vogliamo servire Guarda questi esempi Sono molto importanti Se tu mi dai un figlio Io lo do a te Se tu mi prolunghi la vita Io per la posizione che ho Tolgo tutta l'idolatria Dal Regno E Dio risponde Perché noi siamo Intenzionati Di voler piacere a Dio Cercate prima Il Regno dei Cieli E le altre cose Vi saranno sopraggiunte Dobbiamo cercare Gli interessi di Dio E Dio si occupa Degli interessi nostri Come preghi Quando preghi Dammi questo Dammi quello Fai la spesa Mi serve questo Mi serve quello E ciao Dio Ci vediamo Quando ho bisogno Di un'altra cosa Questi esempi Sono scritti qui Per noi Sorella mia Fratello mio E non si ferma qui Leggiamo nel verso 5 Va E Dio a Ezechia Così parla il Signore Dio di Davide Tuo padre Ho udito la tua preghiera Ho visto le tue lacrime Ho visto che vuoi esercitarti Per togliere l'idolatria Dal Regno E che vuoi un cuore integro Per potermi servire Ecco Io aggiungerò Ai tuoi giorni Quindici anni Morì a cinquantaquattro anni E suo figlio a dodici anni Manasse Cominciò a regnare Proprio come aveva detto Il Signore John aveva passato Tanti guai Tanta disubbidienza Come noi Chi di noi Non disubbidisce Però quando si trovò Alle strette Fondo al mare Nella pancia del pesce Il Signore risponde Quanta gioia Mi dà al cuore Di poterti dire Che se tu ti muovi In questo modo Puoi contare su Dio Leggiamo Quello che dice Giona Nel capitolo 2 Dal verso 1 Al verso 9 Il Signore Fece venire un gran pesce Ma lui Non lo sapeva ancora Per inghiottire Giona Ma Giona rimase Nel ventre del pesce Tre giorni E tre notti Dal ventre del pesce Giona Pregò il Signore E suo Dio E disse Io ho gridato al Signore Chissà dove prendeva la voce Che voce c'era Dal fondo della mia angoscia Ed egli mi ha risposto Dalla profondità del soggiorno Dei morti Ho gridato E tu hai udito la mia voce Alleluia Tu mi hai gettato Nell'abisso Nel cuore del mare La corrente Mi ha circondato Tutte le tue onde E tutti i tuoi frutti Mi hanno travolto Io dicevo Sono cacciato lontano Dal tuo sguardo Come potrei vedere Ancora il tuo Tempio Santo Le acque mi hanno sommerso L'abisso mi ha inghiottito Le alghe si sono attorcigliate Alla mia testa Sono sprofondato Fino alle radici dei monti La terra ha chiuso Le sue sbarre Su di me per sempre Ma tu mi hai fatto risalire Dalla fossa Oh Signore Signore Mio Dio Quando la vita veniva meno in me Io mi sono ricordato del Signore La mia preghiera è giunta fino a te Nel tuo Tempio Santo Quelli che onorano gli idoli vani Allontanano da sé la grazia Oh se sei un'idolatra Se tu ti inchini davanti a Madonna e a Santi Ogni volta che lo fai Allontani la grazia di Dio da te Perché disubbidisci Al suo comandamento Senza mezzi termini Perché il comandamento in Esodo Capitolo 20 Dal verso 3 E 4 Dice che non li devi proprio fare Questo dice la parola del Signore E questo ti dico Non avere altri dei oltre a me Non farti scultura Né immagini alcuna delle cose Che sono lassù nel cielo O qua giù sulla terra O sotto le acque Sotto la terra Leggiamo il 5 Così comprendiamo meglio Quello che c'è E non ti prostrare davanti a loro Non li servire Perché io Il Signore Il tuo Dio Sono un Dio geloso Punisco le iniquità dei padri Sui figli Fino alla terza e alla quarta generazione Di quelli che mi odiano Leggiamo cosa dice Giona Nel capitolo 2 Verso 9 Quelli che si confidano negli idoli Quelli che baciano gli idoli Quelli che venerano gli idoli Quelli che adorano gli idoli Quelli che si inchinano davanti agli idoli Allontanano la grazia di Dio da loro Quelli che onorano gli idoli Vani Allontanano da sé la grazia Io ti devo dire Quello che dice La parola di Dio Perché Dio è degno Di essere lodato Benedetto e glorificato Grazie Signore Il Signore non trascura Di invitare noi Questa mattina Come popolo suo In secondo cronache 7.14 Ci dà la ricetta che serve a noi Grazie Signore Sei il mio popolo Sul quale hai invocato il mio nome Si umilia Prega Cerca la sua faccia E si converte dalle sue vie malvagie Io lo esaudirò dal cielo Perdonerò i suoi peccati E guarirò Il suo paese Noi credenti In umiltà Una preghiera di pentimento Compromessa di migliorare E di voler essere ripieni Di Spirito Santo Per servire il Signore Ti assicuro Che il Signore Ti risponde In questo momento Mi viene in mente Quando il Signore Mi ha salvato E ricordo con esattezza Quello che chiedevo al Signore Signore Dicevo la sera Prima che il Signore Mi avesse salvato Quando Riflettevo su me stesso Perché Professavo di essere ateo Però avevo un punto interrogativo Dentro di me Dicevo fra me e me Signore Se tu cambi la mia vita Io ti do la mia vita E ti servo Fino all'ultimo respiro Però io devo sentire La mia vita cambiata Non era un Chiedere Dammi questo E poi mi faccio i fatti miei La sera dopo Come un incanto Il Signore Fece una programmazione Di ritornare Nella chiesetta Di Lugano Da Locarno A Lugano La sera dopo Mi salvò Mi battezzò Nello Spirito Santo Sono passati Più di 57 anni Sono ancora qui Perché noi Perché noi Quando parliamo Col Signore Dobbiamo dire Quello che A Lui piace sentire E Lui interviene Molte volte Il Signore ci risponde Nei nostri bisogni Ma dalle preghiere Che abbiamo letto Fino in questo momento Gli esempi più grandi Gli esempi più grandi Sono quelli Di voler Servire Il Signore Non Fare i fatti Nostri Giona Non abbiamo continuato A leggere Che ci vuole Molto tempo Ma quando venne fuori Andò a Nineve Dentro lì Nel contesto Dio aveva visto Che aveva nel cuore Di volere Ubbidire Anche se prima Aveva cercato Di fuggire Dalla presenza Di Dio Questo è importante Amica Amico Vuoi vedere Le risposte Di Dio Non devi essere egoista Dammi questo E dammi quello E poi Te ne vai Per i fatti tuoi Una volta Venne una ragazza Per pregare Che non poteva Non poteva camminare Mi ricordo Il pastore Gli chiese Io prego Che il Signore Ti guarisca Ma cosa vuoi fare Dopo Io Desidero Tanto Che il Signore Mi guarisca Perché voglio Ritornare Nella discoteca Dove andavo Prima Non ricordo Se il Signore L'ha guarita O no Ma questa risposta Ma questa risposta Sicuramente Non era da parte Del Signore Davide Quando aveva Peccato Lui era già Un uomo di Dio Nessuno è perfetto Ma nel Salmo 51 Nel verso 11 Dice Leggiamolo Perché così Impariamo Come camminare Non respingermi Dalla Tua presenza E non togliermi Il Tuo Santo Spirito Signore Grazie 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 Dammi la gioia Della salvezza Nel verso 12 E Rendimi la gioia Della Tua salvezza E uno spirito Volenteroso Mi sostenga Per fare cosa? Insegnerò Le Tue vie Colpevoli E i peccatori Si convertiranno A Te Predicherò Il Vangelo Per portare Anime a Te Sei disposto Di servire Del Signore Se Lui opera Nella Tua vita O vuoi restare Come prima? Quando avevo Sbagliato Poi E Le cose Non andarono Più bene Chiesi al Signore Di tirarmi fuori E sono Quindici anni Che sai Quante tentazioni Tengo Di voler Di voler Rifare Quello Che facevo Prima Con tutta La possibilità E le capacità Mentali Che ho Di voler Riprendere Ma ci passo A fianco Non ci guardo Neppure Perché So Che tutto Funzionerà Meglio Quando io Mi dedico Con tutto il cuore Al Signore E al suo servizio Altri Esempi Che ci possono Essere Di aiuto Perché la Bibbia È piena Abramo Per esempio Anche pregò Pregò Per Abimelech Che si era preso Sara La moglie Però qui Non era tutta colpa Di Abimelech C'era anche La colpa Di Abramo Abramo Era un carattere Abramo Piaceva Piaceva a Dio Solo per la fede Che aveva Ma non era Un santo uomo Come tutti quanti Noi Tutti hanno peccato Eppure Lui Dio non chiede La perfezione Ma la fede Gli piace Leggiamo insieme In Genesi 17 E 18 Che belli esempi Abramo pregò Dio E Dio Guarì Abimelech La moglie E le serve Di lui Ed esse Poterono Partorire Infatti Il Signore Aveva Resto sterile L'intera Casa Del re Del reame Di Abimelech Abimelech Era come Faraone Come Non era Una persona Era una Dinastia Reale Come Erode A causa Di Sara Moglie Di Abramo Ma Era già Intervenuto Direttamente Su Abimelech Dio Nel verso 7 Leggiamo insieme E 8 Ora Restituisci La moglie A quest'uomo Perché È profeta Egli pregherà Per te Tu vivrai Ma se non la restituisci Sappi Che sicuramente Morirai Tu E tutti I tuoi Abimelech Si alzò Di mattina Presto Chiamò Tutti i suoi servi E raccontò In loro presenza Tutte queste cose E quegli uomini Furono presi Da grande paura Paura Questo non lo fece Diventare Un figlio di Dio E neppure Loro si Convertirono Ma Comunque Dio dimostrò Che salvaguardava Il suo Amato Abramo Uomo di fede Leggiamo il verso 7 Abramo Era gradito a Dio Per la fede Però Realmente Non aveva Agito bene Abramo Era gradito a Dio Per la fede Ma non Era un santo uomo Perché lui Aveva detto Che era sua sorella Per evitare Che Fosse successo Poco di fede Gli era mancata E perciò Il Signore Ebbe Compassione Di lui Mosè Nell'Antico Testamento È il tipo Di Cristo Sai Nella Bibbia Ci sono i tipi La tipologia Che Delle figure Mosè era uno Che Intercedeva Come intercede Cristo Leggiamo Nel capitolo 11 Verso 2 Dei numeri Dice Dice così Allora Il popolo Gridò A Mosè Anziché Chiedere a Dio Gridava a Mosè Mosè Pregò il Signore E il fuoco Si spense Noi abbiamo Gesù Che ora Intercede Per noi Nella nuova Dispensazione Della grazia In Romani 8 34 Gli ultimi Due Righi Dicono così Leggiamo E ancora più È risuscitato E alla destra Di Dio E anche Intercede Per noi Gesù Noi abbiamo Questo grande Sostenitore E però Richiede La nostra Adesione Dobbiamo andare Al Signore Perché Mosè Intercede Perché Intercede Perché Il popolo Andò Signore Aiutaci A comprendere Allora Il popolo Gridò A Mosè Noi dobbiamo Gridare A Cristo E dire Signore Io sto Qua Messo male Questo Vuol dire Preghiera Questa Tipologia Ci aiuta A comprendere Che noi Dobbiamo Muoverci Così Signore Aiuterci Questa Mattina Per noi E la garanzia Che è stato Accettato Da Dio Samuele Per esempio Aveva Rinunciato Alla Posizione Di Governatore Ma non Rinunciò Ad essere Intercessore Per il popolo La parte Spirituale La parte Spirituale Noi la dobbiamo Curare Più della parte Naturale Perdiamo Perdiamo Tanto Tempo Intorno Alla Al mettere A posto La nostra Vita Questo No Samuele ci Dà una Lezione Nel Comprendere Che Non chiese Di essere Il governatore Di Israele Ma L'intercessore Sì Leggiamo Come dice In primo Samuele 12 23 Oh Signore Aiutami Aiutami A fare Quanto a me Lunci Da me Il peccare Contro il Signore Cessando Di pregare Per voi Anzi Io vi Mostrerò La buona Diretta Via Ci ricorda Nel verso 23 24 Qual è la Buona via Di applicare Nella nostra Vita Solo Temete Il Signore E non Si ferma E servitelo Puoi metterci Il verde Sopra Noi Quando andiamo Al Signore Dobbiamo fare Patti Di ubbidienza E di servire Il Signore E servitelo Fedelmente Molti credenti Chiedono Fanno Dicono Ma non servono Il Signore Signore aiutaci Questa mattina Ma mi viene Da sorridere Perché questi esempi Servono E sono pratici Non sono Così scritti Per caso Il Signore Cambia tutto Quando decidiamo Per Lui Di amare Lui Di servire Lui Di metterlo Al primo posto Cercate prima Il Regno Dei Cieli E le altre cose Vi saranno Sopraggiunte Ti stai impegnando Per servire Il Signore Mentre cammini Col tuo Cuore Pieno di fede Verso Dio Parlando con Lui Proclamando La vittoria Che sta per arrivare Per te Per quelli Che ti circondano Giobbe non Si scoraggiò Ero passati anni Quanti non ti so dire In Giobbe 12 10 Lo abbiamo già letto Rileggiamo Noi dobbiamo vivere Una vita pratica Sorella mia Una vita pratica Fratello mio Non Tutto fumo E niente arrosto Leggiamo Giobbe 12 10 42 10 Chiedo scusa Mi sono sbagliato Quando Giobbe Aveva pregato Per i suoi amici Il Signore Lo ristabilì Nella condizione Di prima E gli rese Il doppio Di tutto quello Che già gli era appartenuto Scaricò Un fiume di benedizioni Sopra di lui Solo al pensiero Ma dove devo mettere Tutta sta roba Il Signore Lo fece abbondare Che Non Pensa Pensa tu Signore Aiutaci Scaricò un fiume Di benedizioni Sopra di lui Non ci scoraggiamo Di fare il bene Perché Se non ci scoraggiamo Se non ci stanchiamo Mieteremo A suo tempo Era arrivato Il tempo Del raccolto Per Giobbe Leggiamo Dal verso 12 Al verso 17 Chiude In un modo Meraviglioso Un poco tardi Ma meglio Tardi che mai Tanti hanno perso Tutto E si sono persi Pure loro Leggiamo insieme Signore Il Signore benedì Negli ultimi anni Di Giobbe Più dei primi E gli ebbe 14.000 pecore Prima ne aveva 7.000 6.000 cammelle Prima ne aveva 3.000 1.000 paia di buoi E 1.000 asini Andiamo avanti Fino al 17 Ebbe pure Sette figli E tre figli Con una differenza E chiamò La prima Gemima La seconda Chesia E la terza Cheren Apuk In tutto il paese Non c'erano donne Così belle Come le figlie Di Giobbe E il padre Assegnò loro Un'eredità Tra i loro fratelli Giobbe Dopo questo Visse 140 anni E vide I suoi figli E i figli Dei suoi figli Fino alla quarta Generazione Poi Giobbe Morì Vecchio E sazio Di giorni Così dunque Il nostro amore È la prova Del nostro amore Per Dio Fare il bene È la prova Del nostro amore Per Dio Se non sono Chiacchiere Voglio ripetere Noi figli di Dio Noi credenti Fare il bene È la prova Che apparteniamo A Dio Perché i figli Del malvagio Sono malvaggi E fanno Usano La malvagità Tu dici Ce ne devo mettere Un poco Anche io Se no Mi mangiano Mi bruciano È come mettere Un bicchiere Di aceto In una botte Di vino Guasti tutto Continua così Non ci scoraggiamo Di fare il bene Perché se non ci stanchiamo Mieteremo A suo tempo Così dunque Il nostro amore È la prova Del nostro amore Per Dio Leggiamo il verso 10 Signore tu sei grande Se non solo delusione Prendiamo Così dunque Finché ne abbiamo L'opportunità E dove non c'è Creiamola Facciamo del bene A tutti Ma specialmente Ai fratelli In fede Almeno nella chiesa Dove vai? Perché oggi Pare che Scarseggia anche Nella chiesa Noi ci dobbiamo Impegnare Per fare il meglio Non dobbiamo Guardare a quelli Peggio Dobbiamo guardare A quelli Meglio Ma soprattutto Dobbiamo guardare A Cristo E alla sua parola Di fare quello Che dice Perché alla fine Chi compenserà Tutti Non saranno Quelli intorno a noi Ma sarà Sempre Dio E cosa abbiamo visto Questa mattina Attraverso tutti Questi esempi Che Dio Non ha lasciato Nessuno di loro Nella condizione Di prima Davide Alla fine Nelle coronache Dove Dove Chiude i suoi giorni Sazio di giorni Sazio di glorificare Dio Ma chi sono io Che tu hai usato Tanta benignità Verso di me Non sapeva come Ringraziare Dio Per tutto E non solo Ma quando lasciò Al figlio Di costruire Il tempio Di Dio Oltre che Gli aveva preparato Tutto Diede dal suo Tesoretto Tanto oro Quanto ne abbiamo Dato noi Per fare il cambio Da lire A euro Depositato in Germania Quante tonnellate di oro Abbiamo dato noi In Germania Per fare Per essere Essere lì In deposito Come garanzia Della nostra Nazione Tanto oro Lui diede Per il tesoretto Dal suo tesoretto A Dio Per l'opera Di Dio Signore aiutaci E anche Il verso 6 Di Galati 6 6 Non dobbiamo Dimenticarci Di coloro Che servono Il Signore Chi viene Istruito Nella parola Faccia parte Di tutti I suoi beni A chi Lo istruisce Dobbiamo Ricordarci Dell'opera Di Dio E chi Porta avanti L'opera Di Dio Perché Dà l'impressione Che i pastori Devono Chiedere L'elemosina Per andare Avanti E vivere Bisogna Saper Distinguere Tra pastori E mercenari Il mercenario Bisogna stare Attento Ma il pastore Bisogna Sostenerlo Ricordati Questo Rileggiamolo Un'altra Vota Chi viene Istruito Nella parola Faccia parte Di tutti I suoi beni A chi Lo istruisce Non l'avevi mai Letto Adesso L'hai letto E lo sai Se vedi Il tuo pastore Che va Un po' Arranciato Perché soffre E forse Non ha come Pagare La benzina O non si può Cambiare la camicia Perché vedi Che porta Sempre la stessa Camicia Ricordati Che anche Questo Fa parte Dell'opera Di Dio Perché molti Si vergognano Di esporre Il loro bisogno Ai credenti E molti credenti Non lo vedono Allora Attenzione Ai mercenari Ma curiamo I pastori I pastori Che si dedicano Con tutto il cuore Voglio ringraziare Una sorella Che non ci ha messo Il nome Perché normalmente Qualcuno Che mi manda Un'offerta E c'è il numero Io posso Almeno ringraziarlo C'è una sorella Che mi ha mandato 75 euro Un po' di giorni fa La voglio ringraziare Grazie sorella Dio te lo renda In benedizioni Perché non mi hai messo Il numero Se non ti chiamavo Direttamente A Dio Sia la gloria Per come Lui ci insegna Per camminare Con Dio E Fare il meglio Che possiamo Per onorare Dio E la sua opera Vogliamo ringraziare Dio Per la parola Di questa mattina E facciamo tesoro Di Migliorare Il nostro rapporto Con Dio E soprattutto Servirlo Così come Dio Comanda E la sua parola Chiudi gli occhi Preghiamo Signore Ti vogliamo ringraziare Questa mattina Perché tu ci dai Insegnamenti Pratici Mentre ci confrontiamo Con la tua fedeltà Che hai usato Con coloro Che ti hanno dato Il posto Migliore Nella loro vita Tutti sbagliamo Tutti abbiamo sbagliato Tutti continuiamo a sbagliare Però tu Sei pronto a perdonare E sei pronto a ristrutturarci Per poter servire Lodare Glorificare te Sempre 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 Amen 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 Hai ascoltato un messaggio Registrato in diretta Continua a seguirci Sui nostri canali social O sul sito www.paroledivita.org O sul sito